musica 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 aspetta ah siamo qua su satisfactory un fantastico gioco dove dovremo costruire e esplorare e costruire e esplorare contemporaneamente e in pratica questa serie che avrei in mente tipo non so quante puntate saranno saranno di esplorazione in vari mondi che tipo cazzo è bastissimo sto cacchio di gioco e niente allora andiamo a scoprire nuove fantastiche cose tra cui abbiamo scoperto questo posto strano dove abbiamo visto nuove robe tipo un hard disk e def si è dimenticato qua delle viti def prendi le viti prendi le tu no no spazio bravo cosa vuoi ammirare il cliché dei videogiochi vai la pianta conficcata nel terreno madonna santa questo gioco ha fatto dalla betesda e niente allora quindi quindi in pratica noi siamo qui questo è un fantastico posto per andare a esplorare e vedere che cosa troviamo qui in giro non so perché mi sembri sia gabby che aspetta qui c'è una salita non so perché mi sembri gabby e tag messi assieme per come spieghi non lo so devo spiegare veloci adesso ci sono sierani che la luce la ferma ho fatto vai verso i bagni dove sono i bagni eh c'è ne uno dietro i te ahhh ok muori roio ragno ma donna santa si bagga dentro di si bagga dentro di dicevo qui testi computer eh eh vorresti madonna lezzo salve come hai fatto a salire? si chiama saltare di corpo ah ti si bagga alcune volte la tuta la tuta lo sai? quindi mettile e rimettila dentro l'inventario allora intanto è tutto rosa siamo nei gay pride in questo momento si potevi anche evitare la salita vabbè scusami era il tempo è il tempo delle metri ok sai che è stata inutile questa salita? no non tanto cioè almeno abbiamo evitato la cascata quindi dobbiamo farci tutto il giro ma io saliamo lì sopra come deve andare? non so no no aspetta no puoi fare così ok no sai cosa? no 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 si chiama scala non è una scala è un coso per i lastri però è una scala lo stesso visto? vedi? serve sempre come scala questa cosa qua io pensavo ci fosse un limite del mondo invece no limite ma lo sai che a volte mi si sta baggando tutto dove andiamo noi? non ci sono limiti oh fuck qui non ci possiamo entrare qui c'è gas 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 ci serve il nostro obiettivo attuale è la maschera antica ah come avete in alto a destra abbiamo un obiettivo che dobbiamo fare ok quindi quando ci possiamo andare abbiamo un obiettivo che pratica la maschera antica per poter attraversare più zone e le più zone vuol dire nuovi posti dove poter andare a cercare più elementi e più elementi vuol dire oh guarda cosa c'è qua si sta baggando urani 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 ah già è vero quindi mi sono scordato di dirtelo la giornale o cristo santo l'aggiornamento ha introdotto le radiazioni ho notato esatto no allora l'uranio ce l'abbiamo però dobbiamo ancora costruire le centrali nucleari per ora andiamo a carbone per ora allora se vuoi dire vabbè vai a carbone sì ma prima andavamo di biomassa prima andavamo di biomassa era bruttissimo per il fatto che si impiegavano tre secoli adesso con carbone è abbastanza infinito ma meno potente quindi abbiamo dovuto costruire 5 o 6 generatori più o meno aia ma mi hai sparato addosso io ho sperato a caso ma non ti metti davanti sparagli e gli sto sparando ah se abbiamo fatto se abbiamo fatto se abbiamo fatto ok se non male che ci abbiamo un sacco oh no sto finendo le noci eh per ora abbiamo un sacco di no e poi vedi che finisce le noci ok c'è un ragno e c'è una lumaca per il momento non c'è niente di nuovo sì a parte lumache prendiamo le lumache no le lumache ci serve le lumache non è nuovo fidati no lumache no ma ci serve le lumache ah ragno gigante è morto da solo si è suicidato eh prendi tu la lumaca uh è gialla le ultimasi che arriva il ragno a rompermi il cazzo no no o si è proprio suicidato io intanto esploro qui che cazzo è sta cosa ok esploriamo ma stiamo attenti a non cadere di sotto sai com'è ci tengo la mia roba da 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 io c'ho un problema oh no 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 fuck stanno per cadere di sotto ci sono i boss che si stanno riavvicinando a me è un problema dove sei dove sei sono sopra una roccia o corro o corro sto tenendo di capire dove cacchio sei non devo farmi vedere ma tu sei avanti non sono avanti sto tenendo di capire dove cacchio sei io sono in un posto dove ci stanno delle rocce da distruggere ma sei in alto o sei in basso sono in alto eravamo dove c'erano i portro boss di prima ah ah ok ok più o meno ti vedo da un lato ti vedo sto per arrivare su allora facciamo quest'ultima cosa vediamo di raccogliere altra roba e poi ce ne oh shit boss cheat ho un minotauro ce ne andiamo dove Indy eh aspetta Indy vedo una cosa vedo una cosa arancione sopra un'isola mi sa che c'è un hard disk eh io ho trovato un altro hard disk eh segnatelo con un ragazzardo cosa? come sono morto? no sei morto no Indy no dai allora per costruire la macchina ci servirà roba quindi la maggior parte della mia roba è ancora lì nel posto dove sono morto eh guarda che è vicino al posto dove sono morto però c'è un eh una zona bella ok però io devo tenere gli occhi fissati su su quello che è molto probabilmente un hard disk o so con una montagna allora aspetta che arrivo subito anch'io il problema è che all'inizio del gioco dobbiamo fare tutto così tutto quanto a mano e non con fabbrica volontaria ah a mano e a mano era qualcosa di tipo prendi e sparati il tuo punto in te allora arrivo se vogliamo essere più masochisti continuiamo la nostra avventura ah vediamo di non essere di essere il meno masochisti possibile perché vorrei tornare a casa vediamo di trovare qualcosa di nuovo anche se non c'è e ci spero non c'è non c'è La 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 la. La 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 la. Come to Wally do your best. Picnic Kibon feel so good. Dove? Ma dove? Ma da dove? Ma sei ostro? Ah ti ricordi il ragno che si è suicidato l'ultima volta? Eh sì L'ho trovato Ti è ucciso? No 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 è qua con me che bisogna Senti non posso combattere il figlio di buona donna Allora No la buona donna no i ragni devono morire No ecco Riesci a tornare a casa Perché io ho pochissima vita nessun'arma perché c'è tutto quanto nel mio inventario Sì perché uno stronzo di ragno non mi faceva salire le scale Sto ritornando tranquillo E in questo gioco o c'è la macchina o ti metti a camminare E a camminare E a camminare In pratica stiamo facendo walking simulator No 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 il server non lo dis Oh aiuto Oh 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 Fuck you Kawabangaaaa Oh fuck 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 No sto andando di recuperare la prima ro- bellissimo allora cosa facciamo io e te stronza mi che non sali su ma scappano scappa come se fosse semplice madonna santa sì ma almeno degli horror cazzo sono lenti nemici ma cristo almeno legno e se che avvicinarti scappa allora ce l'ho fatta ce l'ho fatta e l'unico problema uno solo no no l'unico problema uno solo adesso mi devo fare un bel giro 1 2 3 tutta qua ok l'acqua è curta ma papà ancora allora l'acqua è corta ma papà ok ok ci sono diversi nemici nel gioco tra quali una sorta di armadillo strano centurione dei cosi con le cose che ti sparano dei cosi con le corna che ti sparano però più grandi e poi poi ci sono le lucciole appunto quello che mi sta venendo a prendere il culo e i ragni allora ho una buona notizia una cattiva notizia quale la buona notizia che ci sono 9 computer e 15 sita live modulare dove sei scusa un super computer ma se in un harddisk ovviamente sì sì è la cattiva la cattiva che esso sono memorie piena c'è memoria piena o roba piena adesso metodi a vengo da te aspetta arrivo prima da te io ok allora tento di arrivare su da te allora tu sei da quella parte benissimo in realtà c'è un'altra cattiva notizia che non ha menzionato e ci servono 75 tela i modulari pesanti assi da 25 di quelli 9 e abbiamo 14 già messi e non lo so quanti ne sta producendo anche speriamo che stia producendo tanto mentre si muovia sopravvivente a recuperare finalmente Oh no 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 ok allora vivi pocaf padre sontenica peraya in mezzo se qui sopra quindi con i mici rompino questo sono ovviamente no no ho perso pochissimo due persone anche metà delle fatate dopo sei che è solo nella foresta rossa tre di conto fuori che era un attimo fallito aspetta c'è la scala infatti appunto ah e siamo ok se ne siamo l'alve allora che prendo io le cose qui quindi di cosela allora dobbiamo aprire qui così con 250 o cacchio 250 600 cosa 250 volte ah ma io pensavo 250 super computer mi sono pagato in mano sai dei tubi di metallo no no intendo guarda qui cosa c'è vieni qua 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 ah pensavo che era un pezzo della macchina c'erano delle lamiere mi fa ho detto tubi sì ma secondo me ci sono delle lamiere della macchina da qualche parte per fare dei tubi ma no stai lingotto questo danno dobbiamo fare velocemente dei tubi di metallo per poter costruire adesso vi faccio vedere che cosa dobbiamo costruire dobbiamo costruire comunque l'hard disk più o meno so dov'è per l'altro quindi vediamo adesso se possiamo costruire energia allora un biomassa qui e lo attacchiamo qui ora ci serve da costruire dei aspetta tranquilla roba dimmi che basta dimmi che basta dobbiamo dividerlo per tre uno ok intanto ti faccio una domanda volendo sì sì vai fammi pure domande andando sto tentando di capire cosa bisogna fare qua diplomato laureato o continui gli studi? ah continuerei gli studi un giorno ma non so quando un secondo cacchio perché non lo posso fare aspetta ok qui non possiamo fare nulla lascia un qualcosa qui perché non possiamo fare nulla per il fatto per il fatto che metterò 256 ok 256 perché non possiamo fare nulla essendo che qua quindi iscriviti per 30 secondi o ho oh Grazie a tutti